Allora, vediamo un pochettino se ci sta un'altra bella telefonata e dopo vado a cantare un'altra bellissima canzone, Mary. Che canti? Ferdin' a te. Questa è molto bella. Allora, diciamo... Pronto? Pronto? Pronto, eccoci qua. Sì, sì. Ciao, chi sei e da dove chiami? Ciao, ciao, chi sei? Ciao, Andrea, la tua annunziata. Complimenti, Mario. Seguo sempre la stagione. Mi piace come tanti. Sì. Pronto? Sì, pronto, ti ascoltiamo. Dicci tutto. No, perché mi convivo sempre, perché mi ricordi un mio zio. Sì. Che è morto. Ahia. Eh beh, sono cose belle, dai. Eh, sì, sì. Eh, quando ricorda qualcuno, nel modo buono, fa sempre bene. Mi piace molto quando canti quella canzone. Eh, me la puoi saltare? Eh, me la... Sento un fuoco di passione. Ah, un fuoco di passione. Sento, sento un fuoco di passione che ho dentro. Calore che accompagna ogni momento. Va bene, allora, ascoltami, 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 grazie. Ascoltami, dopo della canzone. Non devo muovere. No, no, no. Grazie per farmi compagnia. No, tu devi ridere. Un saluto anche gli amici del circoletto Cacco Pain. Va benissimo, va benissimo. Un saluto. Cacca di sento. Un fuoco di passione. Amma mia. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Bella questa canzone. Sento.